Quattro giorni fa ho trasmesso un radio podcast che poi ho salvato sul mio canale di YouTube Sprecher Radio Podcast of Sant'Enchan, l'ho trasmesso in Sprecher e nel mio canale di YouTube, dove probabilmente lo starete ascoltando, ha ricevuto in quattro giorni 58 visualizzazioni, cioè ascolti perché è una trasmissione radio, ha ricevuto più ascolti che non sul mio canale di Sprecher Radio Sant'Enchan e ha anche ricevuto, cosa inusita almeno per quanto riguarda i miei podcast, delle critiche, che io accetto volentieri perché le critiche aiutano comunque a crescere. E queste critiche però sono un qualche cosa di irrazionale perché mi si accusa di non rispettare le idee altrui, il pensiero altrui e di essere antidemocratico. Ma precisamente chi mi accusa di questo è lui antidemocratico perché in realtà la democrazia, a parte che è una forma di governo e di gestione dello Stato attraverso il voto, ma la libertà di esprimersi che in sé non ha nulla a che fare con la democrazia, con l'organizzazione politica, è anche la mia, io esercito esprimendo dei giudizi la mia libertà di giudizio. Poi è logico che se a qualcuno non piacciono le mie opinioni è un problema suo, non un problema mio. Quindi voglio dire, potrà pure non piacere il mio giudizio su certi temi. Io non voglio fare dei video e delle trasmissioni radio soltanto per guadagnarmi audience. Lo so che se esprimo il mio giudizio su determinati temi, magari qualcuno lascia di seguirmi, ma non è problema mio. Io preferisco esprimere i miei pensieri, non fare audience. Comunque voglio dire, non ci occorre avere due dita di fronte per sapere che la terra non è piatta, che il mondo è sferico, che non c'è nessun complotto e che esiste il cambio climatico. Voglio dire, tutti i complotisti, i complotardi che pensano che non ci siano delle variabili economiche e finanziarie indipendenti dalla volontà dei governi e dei sistemi finanziari stessi, ma che pensano che ci siano solo dei complot. Se ci fosse veramente il controllo del mondo, non ci sarebbe bisogno di instaurare un nuovo ordine mondiale. Evidentemente c'è un gran disordine che nessuno riesce a controllare e ci sono dei gravi schiulibri nell'economia, nella finanza, nella geopolitica. Le cose non stanno così tanto controllate come la gente crede o vorrebbe credere. E si arriva addirittura al delirio di credere in un complot nei vaccini, le scie chimiche, la terra piatta e il Covid-19, quando anche tempo fa si parlava dell'AIDS, del complotto dell'AIDS, che non esisterebbe, che la gente non muore di HIV, adesso dicono che si muore di Covid-19. E' assurdo pensare che ci siano delle trame occulte dietro ogni problema che la società deve affrontare. Il cambio climatico no, non esiste, perché prima si diceva perché sono le industrie delle lobby che inquinano, adesso si dice perché la terra è piatta, quindi non ci può essere cambio climatico. Poi l'HIV non uccide perché è un complotto dei Big Pharma, ma vi rendete conto il grado di allucinazioni, di follie? Adesso anche qualcuno negherebbe l'esistenza del Covid-19, dicono che li vogliono tenere in casa perché sennò la gente sarebbe libera di manifestare e quindi il Covid-19 è un'invenzione di quelli che vogliono reprimere la democrazia della libera espressione. E intanto si contaminano quelli che fanno i Covid-party. Veramente siamo al limite del delirio. Democrazia non è fare quello che si vuole. Infatti molte persone che acclamano queste teorie, poi escono, fanno tardi, si stressano, fanno dei rive notturni di musica elettronica e poi guidano il loro SUV a tutta velocità, schiacciando le persone, soffrendo di incidenti, alcolizzati e drogati. Cioè libertà non è fare tutto quello che si vuole, ma è rispettare anche le norme, le regole che una società si deve imporre per vivere equilibratamente e in maniera sana. E quindi io mi domando, fino a che punto si può fare quello che si vuole? Fino a che punto ci si può alcolizzare, drogare e guidare alle 5-6 del mattino, 8, un'automobile contromano a tutta velocità? Che è una metafora di quello che sta succedendo nel nostro paese, anche con il Covid-19, con il coronavirus. Realmente si può fare quello che uno vuole perché è considerata libertà di espressione? Non c'è un limite, la mia libertà non finisce dove inizia quella degli altri. E allora lo stesso vale anche a quello che posso dire nei miei video e nei miei radio podcast. Commentateli se volete, dite tutto quello che volete. Comunque la mia libertà di dire quello che voglio finisce dove inizia la libertà degli altri. Se a voi non vi piace il giudizio che esprimo su determinati temi, come che il calcio è l'oppio del popolo, delle masse, per quello che una persona mi ha chiesto in maniera civile, come mai dobbiamo rispettare la quarantena ai giocatori di calcio o no? Perché se si taglia il calcio in Italia per la tutela dei giocatori di calcio, già è tanto che si può giocare a porte chiuse, ci sarebbe una ribellione di massa, quindi il calcio è l'oppio del popolo in Italia. Ecco perché nessuno si ribella tanto di fronte a scelte politiche, sanitarie ed economiche. Se si interrompesse il calcio per la salute degli addetti ai lavori, ci sarebbe una ribellione delle masse. Invece la gente che pensa, sono dei professionisti, guadagnano miliardi, si possono pure ammalare tanto il lavoro loro. In qualche modo bisogna continuare a somministrare pane e circiensis, pane e circo, alle masse, in modo che con il pubblico ludibrio e con il foraggiamento della sussistenza, gli si tenga buoni agli individui che fanno parte delle masse. Altrimenti sì, ci sarebbero delle rivolte, come già ci sono state, ma in larga scala, cioè sono andati a manifestare violentemente perché non vogliono rispettare la quarantena, ma se non gli dessero tutti i campionati, la Champions League, la Coppa Italia, le partite della domenica, sarebbe un casino. Allora meglio che si ammalino in pochi, i giocatori di calcio, piuttosto che avere delle insurrezioni popolari in tutta Italia. Purtroppo il nostro paese è così. Poco solidare con i giocatori di calcio milionari, veramente picchierebbero i giocatori, picchierebbero tutto il mondo con tale di avere delle partite di calcio. Poi sono le persone che gettano le mascherine e i guanti nel carrello della spesa una volta che hanno finito la spesa. Non gli importa che altri si ammalino. Tanto è un dovere quello di uscire con la mascherina e i guanti perché altrimenti ti multano. E quando qualcuno infrange, dicono «Ah, hanno picchiato quella casalinga! Infami!» Ma scusa, se tu guidi contro mano, la polizia ti arresta. E lo stesso adesso che c'è il pericolo di propagare ulteriormente il virus, non puoi uscire senza mascherina, avvicinarti agli altri parlando, sputando, scatarrando, sternutendo, scoreggiando. Cioè, la democrazia, se è intesa come libertà, ha dei limiti, altrimenti lì dove finisce la democrazia inizia l'anarchia. Una società disorganizzata, senza controllo, è una società anarchica, non una società dittatoriale. Un regime totalitario, dittatoriale, non conosce democrazia. Invece, quando c'è troppa incontrollata democrazia, come qualcuno dice, c'è l'anarchia, non la dittatura. E quindi, diciamo che l'anarchia è la dittatura degli ignoranti, la dittatura degli ignoranti che si vogliono imporre. La dittatura delle masse è a volte l'anarchia, non la demagogia delle dittature, non il populismo delle dittature. Ma il populismo è la demagogia dell'anarchia. Quindi, come dire, mi si critichi finché si vuole, perché io esprimo i miei giudizi su determinati temi. Questa è democrazia. Che io mi esprimo e che poi gli altri possano criticarmi, mi sta bene. Perché io mi esprimo proprio perché gli altri mi ascoltino. Non è che mi si deve assecondare, non sono pazzo o malato. Ma democrazia è quello, allora. Sei libertà di espressione. Che anche io posso dire la mia. E io posso essere atrio e pensare che dopo la morte non c'è nulla, né nessuno. I religiosi mi criticheranno per questo. Perché diranno, no, guarda, San Ten Chan, tu poi che pratichi la meditazione buddista dovresti sapere che dopo la morte c'è qualcosa. Mi sta bene, sono punti di vista, opinione, ma dire che io non sono democratico. Perché mi esprimo e dico quello che penso mi sembra ingiusto. Io dico quello che penso e gli altri sono liberi di contraddirmi con delle argomentazioni. Non di dire, meno male che tu non hai seguito perché altrimenti staresti imponendo un'idea che è assurda. No, il dibattito democratico impone che tu anche offri delle argomentazioni a favore delle tue teorie. E mi devi dire quali sono i tuoi punti di vista, quali sono le tue opinioni o quali sono le tue teorie. Dire semplicemente che sono antidemocratico perché vado contro quello che gli altri pensano, non è opinare in forma democratica, ma armare un contraddittorio senza costrutto. Devi dire quali sono i tuoi punti di vista che secondo te non sono compatibili con i miei. E poi fornirmi delle argomentazioni valide affinché se io voglio possa anche cambiare di opinione oppure continuare nelle mie opinioni accettando le tue. Quindi mi si scrivano dei commentari più articolati. Non dire, grazie al cielo nessuno ti segue, tu non hai audience. E poi avere un canale che ha al limite 500 visualizzazioni a video con due video. Perché questo è il mio secondo canale dove salvo i miei radio podcast di Spreaker. Ma ho un altro canale con a volte migliaia di visualizzazioni, se non decine o centinaia di migliaia di visualizzazioni. Quindi voglio dire, io ci ho molto più successo di quello che la gente crede. In tutti i social network e nel mio canale principale di YouTube, San Ten Chan. In questo no, perché è un canale dove ho salvato pochi radio podcast e perché è un canale che ho trascurato per molto tempo. Quindi è logico che non ho fatto audience. Però ultimamente sono ritornato e sono passato dall'avere meno di 20 iscritti all'averne più di 60. E all'avere 56, 80 visualizzazioni contro le 5 e le 10 abituali. Quindi sto iniziando ad avere successo anche in questo secondo canale. Nel canale principale invece, perché questo è il canale del brand, ho molte più visualizzazioni al giorno che questo. Quindi ripeto, io credo che purtroppo in Italia si siano fanatizzate determinate posizioni. Io continuo a dire che questo Covid-19 è reale, che bisogna rispettare il distanziamento sociale e usare la mascherina. Poi se volete fare diversamente, fatelo. Però la cosa più brutta è che comprometterete anche altre persone che non devono essere compromesse e che sono debili. deboli. Buon fine settimana e a presto. Adesso vi lascio perché sto per raggiungere i 15 minuti. Ciao ciao e commentate i miei video. Ciao.